Salve a tutti, oggi farò degli investimenti a 60 secondi sulla piattaforma BD Swish, Banca di Swish. Allora, qui su questa piattaforma si può investire un euro. L'orario non è proprio uno dei migliori, sono le 13 e 17, però vi voglio far vedere alcune cose, con la tecnica sempre con l'RSI a 7 periodi e i livelli a 60 e 40. Allora, io ho messo sia i grafici a candele e sia i grafici TIC. E adesso voglio cercare un grafico opportuno per poter investire. Dato che l'orario non è buono, io non aspetterò di investire quando ci sono le situazioni di per comprato e per venduto, ma investirò quando credo sia opportuno, quindi vi faccio vedere. Dato che comunque su questa piattaforma l'investimento è minimo, quindi è facile da recuperare nel caso si sbagliasse. Allora, vediamo un poco, io sto aspettando per vedere se l'euro USD si rialza, perché c'è la media mobile a 20 periodi che potrebbe fare da supporto o resistenza. Vediamo il dollaro neozelandese, se c'è qui l'asset? No, a quanto pare non c'è. Quindi vediamo, il dollaro neozelandese si stava alzando. Vediamo se troviamo un altro asset, l'euro USD, sembra che si stia alzando. Vediamo l'audi USD, allora l'audi USD si trova in ipercomprato. Vediamo di investire su questo asset, allora sembra che stia andando al rialzo. Io investirei un euro per il rialzo, vediamo questa candela, allora sì, ho investito un euro per il rialzo. Allora lo metto pure qui al grafico TIC, AUD USD. Ecco fatto, allora quando è in verde, il contatore è in verde, significa che stiamo in guadagno, mentre quando è in rosso significa che stiamo in perdita. Allora, sta in verde, mancano 18 secondi. E' andato in pari. Quindi il primo investimento ha chiuso in pari. Vediamo di fare un secondo investimento. Vediamo che direzione sceglie. Sembra che voglia andare al ribasso. Vediamo il grafico TIC, dove andrà. Mancano 33 secondi e sta scendendo. Come avete visto, faccio un altro investimento, sempre da un euro. Vi sto facendo vedere come investire con un euro senza dover investire molto e seguendo la direzione, seguendo questa tecnica che ho spiegato in precedenza. Quindi ho investito un altro euro. Io sto investendo un euro alla volta. Questa piattaforma è adatta per i principianti che vogliono iniziare e vogliono anche esercitarsi. Poi vi consiglierò un esercizio da fare. Allora, il secondo investimento è andato bene. Il terzo, vediamo, il terzo pure. Vediamo il quarto se lo prende. Mancano 9 secondi. Allora, si sta rialzando. Questo non lo prenderà. Quindi questo investimento non è andato. Allora, questo investimento è andato perso. Allora, la direzione bisogna vedere. Allora, io continuo con il ribasso. Perché mi sembra che stia andando al ribasso. Allora, mancano 50 secondi. Potete anche sistemarli così, i grafici. Ve l'ho fatto vedere nello scorso video. Perché sono importanti tutte e due. Perché i grafici TIC anticipano i movimenti. Mentre con i grafici a candele potete vedere la direzione. 20 secondi alla scadenza. 10. Allora, è scaduto. Vediamo. L'ha preso. Ha preso anche questo investimento. Allora, vediamo qualche altro investimento piccolo. Allora, il trend dell'Audi USD è rialzista. Però, ci sono state alcune candele ribassista. Come vedete, la media mobile a 20 periodi fa da supporto o resistenza. Infatti, il prezzo per il momento non sta scendendo sotto la media. Ma si sta mantenendo sopra. Io aspetterei anche per vedere se il prezzo vuole scendere sotto la media. Lo sapete che le medie, alle volte, si comportano proprio da supporti e resistenze. Grazie. 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 Sta scendendo, però bisogna vedere se sfonda la media. In effetti, sta rimbalzando sulla media. In effetti, sta rimbalzando sulla media. In effetti, sta rimbalzando sulla media. dato che sta rimbalzando adesso sembra che si stia rialzando vedete questo però vediamo un poco io compra rialzo vediamo se sono riuscita a prendere un punto più basso 30 secondi alla scadenza mi sa che è finita in pareggio non sì allo stesso prezzo quindi vediamo un po' di cambiare asset vediamo l'euro che sta facendo allora vediamo l'euro sembra che stia scendendo però è soltanto una candelotta vediamo un poco allora sembra che voglia scendere però io aspetterei un pochino perché potrebbe anche rimbalzare no sta scendendo vediamo se riesco a prenderla adesso sta salendo perché sta rimbalzando allora sta scendendo vediamo no mi sa che sta rimbalzando no questo non l'ho preso questo investimento io voglio mettere 5 euro per recuperare eventuali investimenti persi e vediamo un po' la direzione la direzione è ancora rialzista però vorrei aspettare un attimino perché come vedete la candela sta andando a ribasso a ribasso a ribasso io credo io credo che adesso sia pronta a scendere in effetti è scesa sotto la media a 20 periodi in ipervenduto sta scendendo in questo momento anche se ci sono questi piccoli rimbalzi allora questo l'ho preso questi investimenti è andato bene vinto ok allora come vi ho fatto vedere se volete potete mettere i grafici tic dall'altra parte della schermata e i grafici a candele dall'altra parte in modo da averli tutti e due presenti per poter investire allora vedete la DX è ritornata a 25 fra poco ci sarà un forte trend bisogna vedere io penso che continuerà a scendere perché non è abbastanza potente ancora comunque potete sempre dopo aver recuperato i soldi ripartire da un euro oppure continuare investendo sempre un euro un euro e vedere quante volte riuscite ad andare in guadagno e quante in perdita allora adesso la DX è ritornata a 21 non c'è un forte trend bisogna vedere se raggiunge nuovi minimi per poter investire a ribasso però sembra che stia rimbalzando quindi io per il momento lascerei perdere ok allora andiamo a vedere le posizioni dovete andare in expired position e potete mettere la data oggi per esempio è giorno 18 mettendo la data vedete quante posizioni avete aperto allora io ho aperto 1 2 3 4 5 6 7 8 posizioni tra le quali 4 ne ho vinte 2 in pareggio e 2 le ho perse quindi facciamo il conticino un piccolo conticino allora il guadagno è di 70 centesimi su un euro perché è il 70% allora 70 più 70 1,40 meno un euro più 70 centesimi meno un euro più 3 euro e 55 perché l'ultimo l'ho fatto di 5 euro un guadagno di 3 euro e 65 quindi ho fatto 8 investimenti tra i quali 4 in vincita 2 pari e 2 solamente in perdita quindi posso essere soddisfatta al di là di quello che comunque ho guadagnato perché se io fossi un principiante mi potrei ritenere soddisfatta allora cosa ho voluto dimostrare con questo video allora questo è un video diciamo più per i principianti che iniziano e vogliono iniziare a investire con con soldi reali naturalmente questi investimenti io vi ho fatto vedere i 60 secondi perché perché alla fine si impiega meno tempo però si può investire sempre un euro un euro anche con i 20 minuti con i 30 minuti con un'ora e qui ci stanno molte strategie da vedere allora volevo farvi qualche conticino allora siccome su questa piattaforma si può investire un importo di 100 euro mettiamo che investiamo un importo di 200 euro allora il principiante che cosa può fare prima di tutto bisogna riuscire bisogna riuscire ad aumentare il capitale per esempio il capitale di 200 euro se si riesce ad aumentare piano piano questo è un ottimo senza perdere e riuscire a limitare le perdite questo è un ottimo esercizio che conduce sulla buona strada per diventare un ottimo trader allora per esempio mettiamo un deposito di 200 euro e decidiamo di guadagnare 10 euro a settimana sempre investendo un euro e cercando di recuperare le perdite allora su 200 euro il 10% sono 20 euro allora 10 euro sarebbero il 5% allora se un trader principiante riesce a guadagnare 10 euro a settimana in tutto riesce a guadagnare senza recuperando naturalmente le perdite e riesce a guadagnare 40 euro a settimana su 200 euro ha guadagnato già il 20% il 20% di 200 euro perché sono il 5% ogni settimana per 4 settimane sono il 20% il 20% è un ottimo guadagno considerato che gli interessi della banca sono meno del 2% su un capitale che deve essere molto maggiore di 200 euro quindi io vi ho fatto vedere questo esercizio perché per esempio se investite 5 giorni a settimana ma anche 3 potete anche guadagnare 3 euro al giorno per riuscire a raggiungere l'obiettivo di 10 euro a settimana e se riuscite a portare in guadagno sempre questi 10 euro a settimana guadagnandone 40 euro vuol dire che siete sulla buona strada per imparare quindi non c'è bisogno di investire capitali tipo 1000 euro 2000 euro 3000 euro se voi non riuscite a guadagnare con soli 200 euro perché questa piattaforma è adatta vi permette di investire una somma minima di 1 euro quindi se voi non riuscite già a gestire il denaro con 200 euro figuriamoci con 3000 euro con 4000 euro rischiate di perdere tutto il capitale quindi fate questo esercizio depositate 100 euro o 200 euro e esercitatevi con le tecniche che volete io vi ho fatto vedere tecniche a 60 secondi a 20 minuti a 30 minuti a un'ora esercitatevi con queste tecniche sempre investendo un euro e magari a guadagnare 3 euro al giorno 3 euro al giorno con un totale di 10 euro a settimana che sarebbe il 5% di 200 euro mentre sarebbe il 10% di 100 euro quindi se guadagnate su 100 euro 10 euro in una settimana avete guadagnato il 10% in 4 settimane avrete guadagnato il 40% e potete essere più che contenti anche se questi soldi non vi serviranno per mangiare però naturalmente quando si inizia non bisogna pensare ai soldi è quello che vi ho sempre detto bisogna pensare solo a gestire le varie situazioni per esempio quando perdete soldi dovete riuscire a recuperare i soldi persi e magari andando un po' in guadagno allora io vi ho voluto fare questa breve cosa questi brevi esercizi magari fate che ne so 5 investimenti al giorno ne fate 3 investimenti al giorno sempre investendo un euro alla volta in questo modo diciamo investendo un euro non c'è molta pressione emotiva e paura perché un euro non è una somma eccessiva e quindi potete riuscire anche potete riuscire anche a fruttare il vostro capitale allora vi volevo ricordare del mio sito www.opzionibinarie60secondi.it se volete informazioni oppure se volete chiedermi informazioni in privato all'email sonia.salerno chiocciola.email.it qui ci sono le informazioni della piattaforma che ho utilizzato si chiama la piattaforma di Bank dei Swish dove potete il minimo deposito appunto 100 euro e l'investimento minimo parte da 1 euro quindi potete utilizzare sia le tecniche a 20 minuti a 30 minuti a 1 ora ossia le tecniche a 60 secondi qui c'è scritto tutto ci sono tutte le informazioni poi qui ci sono le altre strategie quelle che volete potete applicare la strategia che volete ci sono molte strategie anche a lunghe scadenze qui ci sono i grafici ci sono le tecniche per i principianti che io consiglio le tecniche veloci sono a 60 secondi e come iniziare con le opzioni binarie e qui ci sono vari articoli molto interessanti che voi potete scaricare in formato pdf inoltre qui ci sono i miei ebook per chi volesse iniziare comunque deve avere almeno una base di analisi tecnica non può iniziare dalle mie tecniche perché comunque le tecniche senza una base di analisi tecnica non vi serviranno a molto e quindi c'è il mio primo ebook investire in opzioni binarie dal quale ne ho fatto anche un secondo ebook una seconda edizione che diciamo è più ampliata della prima dice più o meno le stesse cose della prima però è più ampia è di 160 pagine e di 7 capitoli e il principiante che la legge dopo aver letto questi ebook è in grado di poter investire con le mie tecniche è in grado di saper leggere i grafici e ci sono anche alcune tecniche adatte per i principianti poi c'è il mio terzo ebook piano d'azione per le opzioni binarie con delle tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora e come costruire un piano di trading per raggiungere i propri obiettivi nel trading poi ci sono le grandi teorie per investire negli opzioni binarie un ebook più teorico dove c'è la teoria di Dow di Fibonacci e di Elliot si parla delle loro teorie e io vi parlo che vi dico che le loro teorie sono anche adattabili alle opzioni binarie quindi io vi faccio vedere anche praticamente magari i grafici di Fibonacci come si impostano eccetera e attraverso diciamo queste spiegazioni vi renderete conto del perché il mercato si comporta in una certa maniera poi ci sono soluzioni pratiche per le opzioni binarie un ebook con molte tecniche per chi volesse trovare la sua tecnica più adatta quindi ci sono tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora quindi qui potete trovare la vostra tecnica più adatta al vostro profilo psicologico poi c'è Fibonacci negli opzioni binarie un ebook dedicato a Fibonacci dove ci sono i supporti e le resistenze i ritracciamenti le falline il calcolo dei target price ci sono anche delle tecniche create da me per poter investire con Fibonacci e delle tecniche per poter investire con le trend line poi c'è il mio ultimo ebook le migliori tecniche per investire nelle opzioni binarie dove ho messo delle tecniche diciamo le tecniche migliori che hanno dato più risultati e ci sono anche tecniche con scadenza giornaliera c'è un capitolo che parla degli orari di trading e perché è importante investire in determinati orari piuttosto che altri quindi per oggi vi ho detto tutto consiglio ai principianti di fare l'esercizio che vi ho consigliato naturalmente se siete pronti a investire soldi reali altrimenti se non siete pronti vi consiglio di continuare a investire su piattaforma virtuale oppure con carta e penna e magari poi se vi volete cimentare per vedere se riuscite a guadagnare perché comunque gli investimenti virtuali si sono diciamo la piattaforma dà gli stessi risultati della piattaforma reale però non c'è quell'emozione del denaro reale invece investite denaro reale inizia la paura inizia l'emozione e quindi questa piattaforma che vi ho consigliato vi permette di investire poco e quindi di investire poco e di sminuire le emozioni che vi possono causare molto danno allora per oggi è tutto vi ringrazio della vostra attenzione ci rivediamo in un prossimo video ciao e grazie